buongiorno a tutti oggi un video un po diverso perché ho deciso di rispondere pubblicamente a una delle vostre mail che mi è arrivata perché ritengo che la questione interessi tutti a scrivermi è francesca che mi dice buongiorno come sta la seguo da molto tempo voglio congratularmi con lei per la chiarezza mi fa una serie di complimenti che vi risparmio e poi dice lei come rocchesso davide rossi e gli altri parlate spesso della necessità di fare comunità di creare rete connessione tra chi la pensa allo stesso modo ho provato molte volte a contattarvi ma non ci sono riuscita e quindi scrive a me per per riuscire a mettersi in contatto con anche appunto altri esponenti della dell'informazione libera che promuovono in sostanza questa stessa idea innanzitutto chiariamo perché dal mio punto di vista perché io mi sono convinto ormai da un po di tempo che l'unica possibilità di resistere al processo di oppressione crescente a cui siamo sottoposti è quella di creare di ricreare delle comunità sul territorio di persone che abbiano non tanto le stesse idee nel senso che nessuno ha le stesse idee ognuno ha una declinazione un po diversa di un di un'idea o di un ideale ma che condividano gli stessi obiettivi le stesse preoccupazioni di fondo la stessa lotta gli obiettivi di queste comunità il motivo per cui sono indispensabili sono fondamentalmente tre il primo è di natura antropologica dal punto di vista antropologico negli ultimi decenni il potere profondo ha portato avanti un programma di isolamento degli individui di rottura di tutti i legami strutturali profondi da quelli con all'interno della famiglia che è il nucleo principale di qualsiasi comunità a quelli con appunto le persone che che sono vicine è indispensabile andare nella direzione esattamente opposta cioè ricreare quei legami ristrutturare quei legami e c'è anche un ulteriore elemento cioè che questo può essere una una palestra dal punto di vista per così dire democratico cioè creare comunità che si autogestiscano che si autogovernino è come dire una sorta di giocare alla mamma e al papà che si faceva da da bambini per prepararsi ai ruoli che si avrebbero che si sarebbero svolti da adulti e la stessa cosa in un certo senso dovrebbe avvenire all'interno di queste comunità in cui tutta una serie di posizioni che non necessariamente sono identiche di idee che non necessariamente sono identiche e divisioni che non necessariamente sono identiche devono essere messe insieme e devono essere portate avanti collettivamente con il dialogo con il confronto con il voto eccetera eccetera e qui veniamo al secondo elemento per cui queste queste comunità sarebbero indispensabili cioè quello politico perché di fatto noi ormai lo so sono un disco rotto lo ripeto alla nausea però dal mio punto di vista è veramente essenziale siamo stati abituati a esprimere un televoto per così dire un po' come ai reality al grande fratello eccetera su chi ci piace di coloro che parlano nella scatoletta magica che può essere la televisione ma può essere anche la rete ma una volta espresso questo televoto tutto è finito e ovviamente coloro che vengono premiati che vengono eletti fanno regolarmente esattamente l'opposto rispetto a quello che hanno promesso e non esiste nessuna possibilità di controllo né di premio o punizione rispetto a coloro che si sono votati e che poi hanno fatto esattamente l'opposto di quello per cui li avevamo votati la creazione di questo tipo di comunità che andrebbero collegate poi l'una con l'altra pur mantenendo autonomia diciamo così funzionale è essenziale anche per avere un potere negoziale dal punto di vista politico perché nella mia ottica questi gruppi di persone dovrebbero porsi come soggetti unitari dal punto di vista politico non tanto esprimendo candidati per questa o per quella forza anche se anche questo è un punto che su cui si potrebbe lavorare ma soprattutto perché darebbero a tutti i singoli individui diciamo così la possibilità di essere all'interno di un gruppo di tanta gente che può rivolgersi alle forze politiche o aspiranti tali dicendo noi vi votiamo se voi fate questo 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 e quest'altro avendo una possibilità di come dire condizionamento rispetto a queste forze enormemente superiore del singolo che appunto non non ha nessun modo di andare a interloquire né a interagire con l'aspetto politico il terzo elemento è economico la stessa francesca nella sua email mi dice che lei ha una piccola produzione di olio e chiede se queste comunità dovrebbero anche avere un ruolo dal punto di vista economico assolutamente sì ritengo che questo possa avvenire sia in maniera informale sia in maniera più strutturata in maniera informale immaginiamo che all'interno delle varie zone poi dipende ovviamente anche dalla dimensione della popolazione delle singole zone ma ipotizziamo che ad esempio nella Liguria in quella zona della Liguria dove vive Francesca si crei un gruppo di persone diciamo 50 persone che si incontra dibatte innanzitutto struttura rapporti sociali amicizie rapporti umani eccetera in seconda battuta fornisce tutta una serie di supporti a coloro che ne fanno parte come è sempre stato con qualunque forma di comunità se una persona ha bisogno non so di non ha la macchina bisogno di essere accompagnata in certe occasioni in certi luoghi a 50 altre persone a cui chiederlo ovviamente in un rapporto di mutuo scambio per cui io faccio questo per i membri della comunità qualcun altro fa qualcosa per me e tutti hanno un vantaggio ma questo ovviamente tanto più può avvenire per i favori quanto più può avvenire per diciamo così i prodotti per cui in questo modo all'interno di queste comunità coloro che hanno soprattutto questo tipo di attività cioè produzioni agricole produzione di uova di alimentari di ogni genere ma anche artigianato ma anche per esempio ci sono persone che producono bellissimi bellissimi abiti in maniera artigianale ma non hanno non hanno modo di distribuire poi questi prodotti in questa maniera anche dal punto di vista economico si può sviluppare un'economia parallela che rafforza anche la condizione economica dei singoli soprattutto se queste varie comunità riescono a creare un sistema di interscambio tanto a livello di idee quanto a livello anche 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 proprio pratico perché in questa maniera diciamo tutta una serie di autonomie rispetto al grande potere economico alle grandi multinazionali alla grande distribuzione si verificherebbero e poi c'è anche un ulteriore elemento che però dal mio punto di vista è da considerare nel futuro e cioè che nel caso la pressione a cui siamo sottoposti superi un certo livello nel momento in cui il regime in cui viviamo mostri il suo vero volto repressivo la possibilità di avere sui territori tutta una serie di gruppi organizzati per la resistenza sarà qualche cosa che può cambiare radicalmente il corso degli eventi ma bisogna iniziare a lavorarci su questa cosa soprattutto prendendo in considerazione due elementi fondamentali il primo la totale democraticità di questi di questi gruppi cioè questi devono essere gruppi che si autodeterminano sulla base di processi assolutamente trasparenti e liberi e il secondo la consapevolezza che è un inganno quello a cui ci sottopone il potere negli ultimi decenni per cui se c'è qualcosa che non è esattamente come la vuoi tu come i bambini quando non fanno gol prendono il pallone se ne vanno bisogna imparare a confrontarci anche tra anche sulla base di differenze e a riuscire a ricomporle perché questo è quello che deve fare la società in questo contesto nel nostro piccolo abbiamo contribuito a organizzare una cena che ci sarà il 7 di marzo in collaborazione con me più inizialmente l'obiettivo era quello di fare un evento culturale che ci sarà e anche attraverso la cena di finanziare i canali cioè sia finanza sul web che me più ma io ritengo che sia anche un'occasione per iniziare su roma a strutturare un principio di queste comunità che poi dovrebbero dovrebbero nascere a livello territoriale e su facebook io ho fatto un sondaggio per sapere quanti tra coloro che abitano nella mia zona cioè roma nord ovest seguissero seguissero il canale seguissero me e è uscito fuori che c'è un sacco di gente che io ovviamente non ho mai visto nemmeno per sbaglio che però abita in zone limitrofe quindi il fatto di creare occasioni per incontri è indispensabile per poi procedere a passi più concreti poi per strutturare queste comunità che la cui anche le cui modalità le cui forme dal mio punto di vista non vanno calate dall'alto quindi strutturate il motivo per cui tutto questo può apparire al momento così vago dipende proprio dal fatto che non si deve calare dall'alto una struttura e dire aderisci ma si deve si devono creare e questo lo si può fare grazie grazie alla rete e al fatto che alcuni di noi sono molto visibili creare la comunicazione per mettere insieme questi gruppi che poi dovranno decidere autonomamente tutta una serie di questioni e tutta una serie di modalità in descrizione di questo video c'è il link per prenotarsi per la cena di giovedì 7 marzo a ostia ma questo è soltanto un primo passo perché in futuro faremo altre altre organizzeremo altri eventi sia per a livello generale a livello nazionale per dare una mano a tutti coloro che vogliono mettersi insieme e creare strutture autonome indipendenti libere e forti per iniziare a progettare il nostro futuro sia a farlo per quello che mi riguarda nel mio territorio cioè roma nord ovest che è una zona abitata da centinaia di migliaia di persone ma su cui si possono e si devono creare tutta una serie di gruppi e strutture sul territorio per iniziare a lavorare a un cambiamento radicale di cui c'è assolutamente bisogno oppure a una resistenza senza quartiere che forse a cui forse saremo chiamati nel prossimo futuro se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale va in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo